ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale la cucina di casa crezia oggi vi faccio vedere come faccio la pizza low carb cioè basso contenuto di carboidrati perché sono a dieta e quindi per togliermi quella fissazione di pizza il sabato e anche negli altri giorni mi faccio questa pizza molto semplice si prepara in dieci minuti vedete il video e noi ci vediamo alla fine ovviamente giù nell'info box vi metto gli ingredienti poi in base per una persona sono quegli ingredienti poi in base quante persone siete ovviamente aggiungete di più ci vediamo dopo ciao 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 a me piace io la mangio mi sento sazia anche se non la finisco tutta ancora vi credete tre uova si mangia tre uova non la finisco tutta ci lascio un pezzetto mio marito però questa è la mia pizza del sabato sera oppure a mezzogiorno quando quando mi va se vi è piaciuto mettete un bel pollice su se vi fa piacere iscrivetevi al canale condividetelo sempre se vi fa piacere sui vostri social noi ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima ricetta ciao 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 ciao